moschettone alice questo moschettone di origine produzione americana è un moschettone ideato per il givernaggio alice o comunemente conosciuto alice che è un acronimo che sta per una sigla americana che non sto qui elencare funzionamento di questo semplice moschettone moschettone che è stato inventato per facilitare l'aggancio di equipaggiamenti e materiali e givernaggi sugli cinturoni e similari zain eccetera eccetera innanzitutto interamente in metallo questa parte scorrevole e funziona esattamente in questa maniera supponiamo di averlo già montato su una taschina si sgancia si prende un cinturone si mette il moschettone in questa maniera poi questi qui andranno ad serrare nella parte inferiore di qualunque tipo di taschina fondina o altra tipologia ed ecco fissato spiegato l'utilizzo del moschettone che può avere impieghi di vario genere ovviamente è verniciato con una vernice nera antiriflesso molto molto resistente di notevole anche spessore e qualora si deformi lo si può raddrizzare e modellare un po